Luca Giurato, noto conduttore televisivo e giornalista, è scomparso all'età di 84 anni. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di N. Kronos, che ha riportato come la causa del decesso sia stato un infarto fulminante. Giurato ha iniziato la sua carriera televisiva nei primi anni 90 con il programma A tutta stampa. Tuttavia la notorietà è arrivata nel 1993, con la partecipazione a Domenica Inna al fianco di Mara Venier conquistando l'affetto del pubblico italiano. La sua figura ironica e a tratti sopra le righe lo ha reso un personaggio molto amato nel panorama televisivo. Nel corso della lunga carriera Giurato è stato un volto ricorrente in programmi di successo come Uno Mattina e ancora Domenica Inna, oltre a prendere parte a diversi reality show. La sua presenza in televisione ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua simpatia, spontaneità e capacità di intrattenere il pubblico con uno stile unico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.